Il modello è quello svizzero, quattro giorni in azienda e uno a scuola. Si chiama Apprendistato, in assetto articolo 43. A Morbegno è già realtà, grazie al corso legno e bioedilizia promosso da Eneip. Una novità assoluta che vede la Valtellina protagonista, una scommessa che si è dimostrata vincente. Sta andando molto bene, abbiamo iniziato l'anno scorso con un quarto anno del settore del corso sulla bioedilizia. Un corso che è innovativo, perché è il primo che c'è in Lombardia su questa tipologia di competenza. Abbiamo provato a lanciarlo qui in Valtellina, come ho detto prima, nel convegno un'area dove le scommesse si possono fare, ma anche e soprattutto vincere. 12 ragazzi hanno iniziato questo percorso, che concluderanno fra qualche mese, dove hanno fatto un inizio all'anno, in primo mese di presenza con un'attività didattica tradizionale. Dopodiché, in collaborazione con delle aziende che le hanno assunte attraverso una procedura, una regola, una norma, frequentano quattro giorni l'azienda dove svolgono attività lavorativa, dove c'è un tutor che li segue, c'è tutto un piano formativo e un giorno rientrano a scuola dove fanno invece l'attività più di carattere didattica tradizionale sulle competenze cosiddette trasversali. Un obiettivo che sta portando frutti interessanti, 12 di questi ragazzi, li abbiamo visti anche recentemente, sono contenti di questa esperienza, come sono altrettanto contenti anche le aziende che le stanno ospitando e ci auguriamo che questa esperienza di apprendistato si trasformi poi anche in un'assunzione futura.